Ciao a tutti da Salutatore, mi trovo qui con una grandissima, l'onorevole Stefania Perzopane. Ciao Stefania! Ciao a tutti! Lui è il salutatore e io stasera faccio la salutatrice. Ecco qua! Per me è un grande piacere. Abbiamo qui con lui Nicola Vivio, paesano. Viene dalla mia terra, la terra d'Abruzzo. E' il papà di Marco Vivio, uno degli attori. Ecco, bravissimo, anche come giocatore. Salutiamo Marco. Ciao Marco, che adesso giocherà la partita. Ciao Simone, anche lui gioca. Ma io infatti ti volevo far fare un saluto che io ho saluto, io gli ho dato pura mania, te l'ha detto Simone? No. Allora, noi salutiamo Simone che è simpaticissimo e ti devo dire una cosa. Ci ha fatto emozionare molto quando sei stato al grande fratello Vip e veramente hai detto delle parole stupende. Avevo i primiti perché tu sei una persona intelligente, bravissima, con un grande cuore. E io per te ho la sorpresa, la manina del salutatore. Meravigliosa! Ecco qua, così puoi salutare tutti i tuoi fan. Saluto tutti con la manina! Grazie, grande Stefania e ciao Simone di nuovo! Ciao! Ciao! Ciao!